Proprio il giocare insieme a Ginette mi fece rendere conto che la compagnia delle donne mi era indispensabile, se non la loro compagnia, in ogni caso la loro vista. Per me niente più bello da guardare di una donna che cammina con il vestito o la gonna ondeggianti al ritmo dei passi. Alcune vanno in fretta verso una meta, forse un appuntamento, altre al contrario passeggiano con aria indolente, altre ancora sono così belle viste di spalle che ritardo il momento di arrivare alla loro altezza per non restare deluso. Per la verità non sono mai deluso, perché quelle belle di dietro e brutte di faccia mi infondono una sensazione di conforto, visto che purtroppo non si possono avere tutte. Sono migliaia ogni giorno a camminare per le strade, ma chi sono tutte queste donne? Dove vanno? A quale appuntamento? Se hanno il cuore libero i loro corpi sono disponibili e mi pare di non avere il diritto di lasciar perdere l'occasione. La verità è una soltanto, loro vogliono ciò che voglio io, l'amore. Tutti vogliono l'amore, ogni specie d'amore, quello fisico e quello sentimentale, o più semplicemente la tenerezza disinteressata di chi ha scelto qualcuno per la vita e non vada più a nessuno. Non è il mio caso, io mi interesso a tutte. a me, lui accarrezza lo sguardo tuo, tu ti abbandoni al gioco suo e io tra di voi se non parlo mai ho visto già tutto quanto e lo so che vuoi. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie.